Tino un'out 15 a 8, questo terzo set Ancora Trento, mamma mia che servizio Ricerco, bravo a salvare quel pallone, però nel campo Conalli con la palla che viene schiacciata da Mazzone sulla schiena di Zaysef che per poco salva tutto, ma ancora un punto, il numero 16 per la via del Trentino di Angelo Lorenzetti Colpito ed affondato lo ZAR Ancora Mazzone Zannelli tira sulla schiena di Ivan Zaysef Che palla che è tirato a Lorenzetti